ciao amici allora vado a parlare dell'ultimo numero uscito di alan ford il numero 660 il piano di putifarre che tecnicamente riprende una storia che aveva iniziato nel numero 658 che vi dico anche col titolo come ricordo insomma comunque è un insomma era contento del 658 e che succede ecco che lo dico anche che era il gioco delle parti o che era successo praticamente dopo è stato fatto quel numero assurdo quattro minuti dopo e anche questo è la storia appunto che wilson capo della scia tra lisce insomma tra lisce vengono incaricate minuette alan ford di recuperare la ford una specie di terna una specie proprio un termos insomma comunque un accozzaio di cose che non ha senso ma io infatti non voglio parlare di questa storia perché veramente ormai eccolo finito non non è durata la frutta invito anche a seguire la ricetta bella recensione di l'isola di carta di massimo dove tecnicamente lui spiega anche appunto perché da chi deriva il nome putifarre che era questo io mi ricordavo era faraone durante il periodo in cui giuseppe c'è un periodo biblico giuseppe con i suoi fratelli veramente un video che forse non dovevo nemmeno fare sono sincero perché l'unica cosa devo dire noi i disegni sono ben disegni devo dire i disegni sono di sono scusate adesso vado a vedere sono di luca esposito veramente disegni molto belli complimenti luca esposito l'unica cosa bella di questa storia ma mi dispiace per max lungo c'erano secchi ma veramente una tirata d'orecchi perché rispetto zero per noi lettori ha finito finito l'unica cosa che per ora che ho capito sono ristampe il numero 661 con rifacimento al nometico numero 1 del maggio del 69 che appunto è uscito con la copertina di cortez di luigi corteggi ecco se che l'unica che però da come ho capito dovrebbe essere delle storie non so se appunto non ristampa di tro sentito dei commenti che hanno fatto al video appunto di massimo di risola di carta disegnata il pifarerio che è il disegnatore che venne che se il testimone dopo raviola di magnus mi dispiace perché veramente era un forzo un personaggio che aveva votato da un forzo gruppo tnt qui ma almeno c'è fai finire niente non si capisce se finisce così c'è ricominci non senza proprio senso senza senza se mi dispiace veramente tanto a questo proprio arrivato a cincio ho chiuso perché ho detto sono arrivato a cincio non so se nemmeno riprenderò 661 vedrò ma non devo vedere mi manco molto male perché perché proprio è stata una presa in giro di max bunk una grande presa in giro mi dispiace perché comunque sia la dice tutte si è stufato non fare più ma non ha assolutamente più senso né l'alan forcio io dico vi invito a andare a rideggere le storie di alan ford ma quelle appunto dei anni 70 80 giustamente diceva sempre riuscito massimo citava appunto i numeri non solo i primi no fino al 100 ma anche quelle del 200 ricordo c'erano molte belle storie io non li avevo tutti ma me li ricordo questi non si può nemmeno c'è veramente non si può nemmeno brutto non è proprio non è c'è qui tutto qui a sparare a croce rossa sparare a una carro funebre ripeto mi ripeterò quindi torna calamity si capisce anche questo c'è un certo punto ecco posso far dire una cosa anche vedete qui no questo putin una specie di putin che lui doveva guarda questo termos ma in realtà anche l'unico mi faccia notare sempre caro massimo che tecnicamente questo signore che bevi io questo non lo so perché beve l'acqua questa coca cola in realtà era lui da da giovane anche questo ma questo termos poi però in realtà non lo doveva fare perché doveva rifiutarsi c'è una specie di eco di sogno che l'unica cosa ecco adesso non perché voglio tornare indietro a dire ci salviamo qualcosa un sogno che tecnicamente quindi torna al discorso unirico realtà come di max bunker questa signora che poi faceva parte da che non la ricordavo adesso se la ritrovo state si baciano ecco questa signora che faceva parte dice che era insomma era un legame col negozio di fiori quello famoso il covo del gruppo tianetti però ecco non dice niente non io io fosse stato insomma aveva anche la faccia di scusarsi per come era andata niente riprende con questo 661 quindi continua si potrebbe dire quindi dicerà che finirà nel 660 no perché continua e che non è il numero 1 661 quindi come però che facciamo come tipo l'alba nera anche se non c'entra niente di land dog col 401 poi poi che fa riprendi le storie di ormai era forte uno è stato quello niente ripeto anche questo che dico dovrei dare ecco mi dispiace per luca esposito a lui dovrei dare un 8 perché ovviamente i segni mi sono piaciuti molto ovviamente per i disegni anche bravo barrio peruca con la copertina anche mi è piaciuta copertina particolare no questo putin putifarre la storia veramente dovrei dare per fare una somma cioè se dovesse fare un equilibrio dovrei dargli un cinque e mezza perché tre la storia cioè anzi zero quindi otto e quattro dove i danni ma io ho un top ecco io io vi do un quattro e un cinque ma più non posso dare assolutamente va bene sono dilungata anche troppo scusate di questo video un po strano ma perché rimango veramente bassito rimango proprio male cioè male perché un personaggio che è stato fatto finire così mi farà proprio rabbia mi fa proprio rabbia però è così niente a sto punto cioè io ripeto sono tentato perché dico no video questa copertina che mi fa io non c'avevo origine al numero uno ma non lo ricordo bene io non ero nemmeno nato sull'ottobre del 69 però questi due sono storici no le prime addirittura dieci copertine credo che erano state insegnate da cortez da luigi corteggi poi iniziò col numero 11 che poi si chiamava proprio il numero uno ma in realtà era il numero 11 inizio fino al numero 75 max scusate magnus robergan e roberto raviola infatti so che sono molto cari se riesco a trovare anche dei ristampi piacerebbe rileggere proprio i primi perché quelli vi riconsiglio ne vale veramente la pena ma ripeto anche i numeri intorno al 200 200 ne valgono dopo secondo me questi che poi ripeto anzi scusate che mi ridi lungo perché sto ripensando noi numeri quello che è stato la festa san grilla via alcune era erano anche carini potevano essere ma dopo ecco l'ultimo ma poi anche quello che tu fai il gioco dei parti poi non trovi di senato ci metti in mezzo quella storia e quattro minuti dopo anche lì proprio senza senso questo kilobyte che diciamo letta al contrario diabolic ma questo veramente assoluto va bene vi auguro la buonanotte e al prossimo video ciao a tutti